L'assessore regionale alla cultura Maria Francesca Corigliano ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del programma di radicamenti Festa della SETA 2019, il festival della tradizione e cultura popolare organizzato dall'amministrazione comunale di Mendicino. Quest'oggi parliamo di un piccolo centro Mendicino che presenterà un evento molto importante per l'intera Calabria. Nessuno deve essere dimenticato? Assolutamente, un piccolo centro ma un borgo molto bello della provincia di Cosenza che con questo festival radicamenti è stato vincitore di un bando triennale della regione Calabria e che ogni anno mette in campo energie mentali positive per valorizzare quella che è l'identità del luogo, quindi uno slogan che dà il senso di quello che sarà quest'anno questo festival. Un festival fortemente orientato alle nostre radici, le radici della nostra terra, le radici della nostra cultura e quindi siamo contenti che in questa sesta edizione continuiamo il percorso di questi anni e che anche questa volta coniughiamo il territorio alla grande musica dei grandi artisti che hanno fatto grande la tradizione musicale meridionale e non solo in giro per il mondo. Avremo ospiti di eccezione come i Sud Sound System che apriranno il festival finale, avremo Babba Sissocò e Tonino Carotone, il terzo giorno ci sarà Morgan che dialogherà con la Calabria Orchestra che nasce come produzione del festival di radicamenti lo scorso anno, per chiudere poi a Montecocuzzo in questo scenario strepitoso con Teresa De Sio e Violon Barbar che sono un po' la sintesi di tutto lo spirito del festival. Grazie a tutti.